Buongiorno a tutti voi. Oggi voglio iniziare da una storiella. Marco voleva fare una bella teglia di lasagne per i suoi amici. Comincia con il preparare il ragù, soffrige gli odori, poi aggiunge il macinato, ma si accorge di avere solo un etto di carne per una teglia di lasagne di almeno mezzo chilo. Ma dice, è lo stesso. Ci metto due chili di pomodoro invece di un chilo e così risolvo la mancanza della carne. E così prepara il sugo, dimenticando anche di mettere il sale. Dopo prepara la besciamella. Invece di metterci il burro, ci mette l'olio, ottenendo un impasto colloso. Ma non si scoraggia. Che differenza fa? Dice. Funzionerà lo stesso. E così lessa le lasagne, mette tutto nella teglia e poi in forno. Peccato che a fine cottura trova una massa appiccicosa, duro e immaggiabile di pasta, pomodoro e farina. Altro che lasagna. poveri amici. Carissimi, sappiamo che per fare una cosa buona bisogna prepararla bene. Quando si tratta di ricette e dell'operato troppo superficiale, invece di avere una cosa buona, alla fine viene un pasticcio. A volte sento dai fedeli le parole, padre, io voglio confessarmi bene, ma non so come farlo. Direi che con la confessione è come con le lasagne. Bisogna prepararsi bene per poter fare una buona confessione. E oggi parleremo del primo ingrediente di una buona confessione, cioè l'esame di coscienza, oppure ancora meglio della stessa coscienza. Allora, cominciamo. Grazie a tutti. C'è una cosa che abbiamo sempre con noi. Non possiamo liberarci mai di essa. Non la puoi lasciare a casa o in un deposito. È con noi quando ci svegliamo, quando lavoriamo, quando riposiamo e quando andiamo a dormire. A volte addirittura non ci permette neanche di dormire. È in grado di cambiare il nostro comodissimo materasso nel letto di Fachiro. Questa cosa si chiama coscienza. È un dono di Dio che ci serve per distinguere il bene dal male. Si può tentare di annegarla. Ma spegnerla non è possibile. Mark Twain, il celeberimo scrittore e umorista americano, amava fare degli scherzi originali ai suoi conoscenti ed amici. Pare che una volta Twain avesse compilato un elenco contenente una dozzina di nomi e indirizzi tra i suoi migliori amici, la maggior parte dei quali erano persone famose e rispettate in tutti gli stati di America. A ognuno di essi inviò lo stesso telegramma. Sei stato scoperto. Scappa subito dalla città. Nel giro di 24 ore, ciascuno dei dodici uomini lasciarono la città. Alcuni di essi andarono via per qualche mese. La coscienza, carissimi, è il dono di Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice così. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Dio ci ama con amore infinito e ci ha dato anche la possibilità di amare. L'amore verso Dio si esprime nell'osservanza dei comandamenti. È proprio la coscienza che ci dice quando abbiamo sbagliato. Allora per la vita retta bisogna avere anche la coscienza ben formata. Le cose non usate con il tempo non funzionano bene. Così è anche con la coscienza. Il Catechismo ci dice così. L'educazione della coscienza è un compito di tutta la vita. Fin dai primi anni dischiude al bambino la conoscenza e la pratica della legge interiore, riconosciuta dalla coscienza morale. Un'educazione prudente insegna la virtù, preserva e guarisce dalla paura, dall'egoismo e dall'orgoglio, dai risentimenti della colpevolezza e dai moti di compiacenza, che nascono dalla debolezza e dagli sbagli umani. L'educazione della coscienza garantisce la libertà e genera la pace del cuore. Allora cosa ci serve per la formazione giusta della coscienza? Prima di tutto la parola di Dio. Come dice il salmista, lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Tutti noi vogliamo fare la volontà di Dio, ma come possiamo conoscerla? Proprio nella Bibbia, ispirata dallo Spirito Santo e interpretata dalla Santa Chiesa. Questo è lo strumento migliore per la formazione della nostra coscienza. La coscienza non serve soltanto per giudicare le nostre opere del passato. La coscienza ben formata ci aiuta anche a fare le scelte giuste, evitando quello che è male. Quindi è molto importante nella vita formare la propria coscienza e seguire la sua voce. La coscienza è un grande dono che ci aiuta a scegliere bene, evitare il male e ci fa capire quando abbiamo sbagliato, commettendo un peccato o i peccati. È questo che ricordiamo come ultima cosa facendo l'esame di coscienza. Carissimi, il sacramento della penitenza non è un bar oppure un fast food che si fa strada facendo. A volte vedevo le persone che entravano in chiesa e subito andavano al confessionale e mi domandavo se avessero fatto almeno un esame di coscienza. La confessione è un incontro importante, molto importante, con Gesù misericordioso. Per farlo bene bisogna cominciare dall'esame di coscienza. Questo è il primo e indispensabile ingrediente per poter celebrare bene questo sacramento. E come farlo? Prima di tutto vi dico subito una cosa. Chi ha la coscienza ben formata e spesso usata, quando sbaglia lo sente subito e la coscienza non gli permette di dimenticare i peccati commessi. Poi ovviamente bisogna distinguere fra i peccati gravi, cioè mortali, e i peccati veniali. E qui tocchiamo un altro tema abbastanza vasto, a cui devo dedicare un altro filmato. Oggi vi dico solo che per compiere un peccato mortale si richiede la presenza simultanea di tre elementi. Materia grave, piena consapevolezza, della mente e deliberato consenso della volontà. Allora la distinzione tra peccato veniale e mortale si basa ancora su questi tre elementi. Si compie un peccato veniale quando non c'è materia grave, oppure se c'è, non c'è la piena avvertenza della mente o il deliberato consenso della volontà. Prossima volta vi prometto di spiegare meglio questa differenza. Ora vi saluto con tutto il cuore. Che il Signore vi dia pace e tanta salute. sia lodato Gesù Cristo. Grazie a tutti.